Dopo averlo mostrato nel mio video collezione sul primo canale, molte persone mi hanno chiesto cosa fosse questo manga di cui appunto oggi andrò a parlarvi, ovvero Yotsuba To, questa edizione giapponese, perché in realtà in Italia è Yotsuba E, e sappiate che però in Italia molti dei volumi non sono disponibili, quindi se Star Comics volesse ristamparlo sarebbe molto buona come cosa. Yotsuba To è un manga di Azuma Kiyoiko, o Kiyoiko dipende come volete mettere voi l'accento, che era già famoso per un altro manga chiamato Azumanga Daiho, che però non è mai arrivato in Italia, che era disponibile in inglese, un omnibus, però penso che sia andato esaurito, ma lasciamo stare. E questo è appunto il suo secondo lavoro, la sua più grande fatica, perché attualmente conta 15 volumi ancora in corso in 20 anni di serializzazione. Però in realtà questo non è assolutamente un problema. Prima che qualcuno me lo scriva nei commenti, Ocelot, che te ne fai di una serie in giapponese? Molto banalmente, considerando che io studio giapponese, in realtà Yotsuba To è un manga ottimo per studiare il giapponese, perché gran parte di Yotsuba To è scritto in iragana, quindi se volete esercitarvi nella lettura veloce di iragana, questo e anche qualche katakana, pochissimi kanji e tutti i kanji che ci sono hanno i furigana, questo è un manga perfetto, quindi semplicemente lo comprai per allenarmi alla lettura. Perché vi dicevo che non è in realtà importante la storia in sé? Perché questo è forse uno dei manga slice of life più puri che ci siano in generale. Cosa intendo con manga slice of life puro? Allora, noi siamo molto abituati a manga che abbiano un inizio e una fine, e ci sembra molto strano vedere manga che semplicemente non hanno una fine. Ma in realtà, in Giappone, questi sono manga abbastanza popolari. Basta pensare semplicemente a un Detective Conan di Aoyama Gosho. Detective Conan è famoso perché chi non lo legge, soprattutto chi non lo legge, dice Ah, ma scopriranno mai qual è il finale di questa cosa? Senza capire che in realtà non è il vero intento dell'autore. Infatti Detective Conan è un manga che si basa molto di più sul concetto dei casi della settimana, che non effettivamente di mandare avanti la trama. Ma se si pensa a Stratama e Detective Conan sarebbero pochissimi volumi che smuovono un po' le acque. Però in realtà anche noi siamo immersi tantissimo all'interno di racconti del genere. Basti pensare a tutti i bonelli che ci sono, che lo so che se avete la mia età è un po' strano leggere bonelli, perché solitamente è il fumetto da vecchi, però in realtà è l'esempio lampante di ciò che già esisteva in Italia prima ancora dei manga. Ovvero fumetti che abbiano sì un filone narrativo sottostante, pensate a un Tex, un Zagor, un Dylan Dog, un Nathan Ever, ma che in realtà tu non compri il volume mensile per continuare il filo narrativo in qualche modo, ti fa piacere, ci siano rimandi al passato. Tu compri però quel fumetto unicamente perché vuoi leggere quell'avventura di quel mese. E magari ti dà pure fastidio se c'è il tuo becontinue dal prossimo mese, perché non ti va, tu vuoi leggere quello. Che è un po' quello che fa anche Topolino col settimanale, però forse là lo recepiamo in maniera diversa, perché in realtà siamo sempre stati abituati al cortometraggio di Topolino che raccontasse un evento e poi finisce lì. Invece siamo diversamente poco abituati al concetto fumettistico di questa stessa cosa. E anche perché inconsciamente diciamo vabbè è un fumetto per bambini, Topolino. Questo perché semplicemente questi racconti, ad esempio un Tex, nascevano come fumetti di evasione per le persone. Nascevano in un periodo storico in cui in Italia c'era una crisi economica senza precedenti, siamo nel dopoguerra, gli Stati Uniti ci hanno posto blocchi navali, possiamo comprare solo le cose che dicono loro, quindi siamo in crisi, ci sono problemi economici. Il fumetto nasce per far evadere le persone, semplicemente. Tu leggi il fumetto non perché devi seguire la trama, ma semplicemente perché vuoi stare quell'oretta a leggerti una storia ambientata nel selvaggio West, come quello che vedi in televisione, ti metti nei panni dei personaggi, vivi queste avventure, vedi questi panorami, queste montagne, fantastico. Poi lo chiudi e pensi a... torni alla tua vita terribile. Un vero e proprio fumetto di evasione, potremmo dire, né più né meno. Ugualmente ci sembra strano quando ciò venga applicato ai manga, come appunto vi ho detto Detective Conan. Detective Conan non è un fumetto di evasione, però è il fumetto che fa compagnia magari mentre sei in metropolitana, che devi arrivare dal tuo posto di lavoro a casa, ti leggi il capitoletto settimanale, leggi il caso della settimana e finisce lì. E appunto Yotsubato è concettualmente simile a quest'idea, ma ancora più semplice e ancora più tranquillo nella scrittura. Infatti di cosa parla? Semplicemente parla di questa bambina che si è trasferita insieme al padre adottivo in questa nuova casa e semplicemente deve scoprire la grande città. Fine. Non c'è alcuna trama. Semplicemente conosciamo i personaggi secondari, ogni tanto esce un nuovo personaggio e conosciamo questo personaggio. C'è l'episodio in cui fanno il viaggio in montagna, c'è l'episodio in cui vanno a fare la spesa, c'è l'episodio in cui questo, questo e quell'altro. Ogni capitolo praticamente è a sé, racconta una cosa a sé. Al limite ci sono capitoli collegati per un arco narrativo più grande che però finito quello non cambia niente. E tutto ciò che facciamo è goderci la vita. E lo so che molti pensano, vabbè, che palle, che noia, che pesantezza. E invece la forza di Yotsubato, e anche in realtà di tutta la corrente, secondo me, degli slice of life, anche da un punto di vista animato, ma non completamente, è proprio questo. La tranquillità della vita. Chi legge questo fumetto non vuole leggere la grande battaglia per il destino del mondo o lo struggersi del proprio cuore perché sei innamorato di quella persona. Vuoi semplicemente leggere delle avventure tranquillissime di una bambina che scopre il mondo e basta. Perché magari la tua vita è già troppo difficoltosa di per sé, quindi vuoi semplicemente aprire un volume, lo puoi anche prendere a casaccio, prendi un volume, lo leggi e ti passi quella mezz'oretta in un mondo in cui tutto sommato non succede nulla in senso positivo. Perché forse non ci pensiamo, ma il non accadere nulla in senso positivo è appunto una bella cosa. Semplicemente tu non stai soffrendo perché non succede nulla, ma tu fremi perché voglia che accade qualcosa, voglio uscire con quella ragazza. No, semplicemente non succede nulla e ti godi il tuo non far nulla. Ed è questo appunto il punto di Yotsubato e anche il punto del fatto che sia un manga in corso, che magari non avrà mai un finale, perché non è necessario abbia un finale. Semplicemente ogni capitolo che esce racconta un'avventura di Yotsuba. Noi viviamo quell'avventura, la viviamo con lei attraverso gli occhi di una bambina curiosa, una bambina non abituata alla città, anche perché per quanto duri da vent'anni, in realtà se non sbaglio l'intero manga è passato tipo un anno di tempo. Perché tra l'altro è scritto in maniera tale che si evolva anche nel tempo. Infatti è uscito vent'anni fa dove c'erano i telefoni quelli grossi, così, i computer giganteschi e tutto il resto. Attualmente invece si è allineato ai tempi, quindi le cose che sta raccontando sono cose appunto moderne, quindi sono diventati gli smartphone, i computer della Apple, quindi comunque non ha una data, ecco. E' anche il motivo per cui un manga che non ha una data e che si evolve non ha neanche una data di scadenza. E quindi sì, se voleste riscoprire il piacere del non far nulla, del non venirti raccontato nulla, ma semplicemente del goderti l'esperienza della vita, di scoprire la vita, di scoprire come sono le stagioni, di scoprire cose la neve, di scoprire come andare a mare, di scoprire come comprare un telefono, come andare a fare la spesa. azioni quotidiane che sono in realtà il nulla, ma che comunque è un nulla positivo, Yotsubato è sicuramente il manga perfetto per questo.